Il spettacolo che dal 3 dicembre fino al 14 sarà in scena al Teatro Argo Studio, protagonista per questo spettacolo insieme a Pier Giorgio Bellocchio e Sergio Rubini che è studio con noi. Lo spettacolo si intitola Una sera delitto, una sera castigo e quindi è come dire toccare un classico come delitto e castigo e farne uno spettacolo assolutamente originale mi sembra di aver capito perché tra l'altro tu hai curato l'edizione di questo spettacolo. Intanto perché l'Argo? Perché credo che non sia casuale il fatto che torni a l'Argo che quest'anno compie 30 anni, uno spazio speciale di Roma devo dire. Io ho accettato di fare questo spettacolo, nasce per l'Argo perché io quasi 30 anni fa a l'Argo in un momento fondamentale un po' della mia carriera feci la mia prima regia teatrale che era Italia Germania 4 a 3 con Margherita Abui, Fabrizio Bentivoglio, Mattia Sbrage e Degno Coltorti che poi divenne un film che girò Andrea Barzini e feci un altro spettacolo di cui ero interprete che si intitolava Non andare a Modena per comprare un vecchio sassofono con Antonella Ponziani. Feci questa roba lì ed ebbe molto successo, tutti gli spettacoli appunto anche questo è il secondo, il sax divenne un film, Marino che stava al tempo nel mio gruppo fece lì Volevamo essere gli U2, anche quello divenne un film, poi fece Cuore Cattivo con Kim, anche quello divenne un film. diciamo l'Argo coincide con un momento molto creativo, di grande indipendenza, di grande libertà e anche di grande fortuna. Ho portato quello spazio sempre con me nel cuore, l'ho ricordato sempre come uno spazio appunto fatto apposta per la ricerca, ti devo dire la cosa mi emoziona perché in un paese in cui la ricerca è il nostro tallone d'Achille, il fatto che invece l'Argo sopravviva, si è sopravvissuto 30 anni mentre il Valle è messo come è messo, forse l'Eliseo chiude, il fatto che invece l'Argo sia ancora lì è una cosa abbastanza commovente. E allora quando l'anno scorso ho fatto in teatro con la regia di Marco Bellocchio, Zio Vania, ho conosciuto suo figlio Pier Giorgio, Pier Giorgio mi ha raccontato che negli ultimi anni collaborava con l'Argo, allora un po' abbiamo avuto voglia come dire di celebrare questo trentennale con me che in qualche modo ci ho messo le mani in quel teatro ormai 30 anni fa, con Pier Giorgio che invece ce li ha messi ultimamente un po' per chiudere questo cerchio e in più io invece per il testo, sono arrivato al testo perché questo è un libro da sempre che mi affascina, ma insomma ci vuole poco, però avevo voglia come dire di prendere quel libro e trasformarlo in un file word, perché se tu prendi un grande classico e lo trasformi improvvisamente in un file word, significa che improvvisamente ci puoi entrare dentro, ci puoi mettere le mani, tagliare, correggere, approfondire, e quindi ho pensato che questa fosse un'opportunità. E voi avete fatto, non fate la lettura integrale di diritto e castigo, ma appunto, come in un file word, entrate dentro, scegliete dei brani dal romanzo, dedicandovi a sere alterne, una sera diciamo a quelli che riguardano gli aspetti del delitto e la sera successiva a quella della pena, diciamolo così, anche se poi in realtà non è così netta la distinzione delle pagine di delitto e castigo, no? Noi in realtà sono partito dall'idea di dividere in due questo spettacolo, un po' anche perché il tema del doppio è il tema, diciamo, è la nervatura di tutto quel libro, in fondo Raskolnikov ci ha doppi dappertutto, è un libro portatore di questa bitonalità, già nel titolo, delitto e castigo, per cui il tema del due è presentissimo. Allora, anche un po' per far emergere questa dualità, ho pensato che fosse il caso di dividerlo in due serate, ma anche perché poi in due serate si riesce a mettere in scena un po' di più di un romanzo che invece altrimenti avrebbe bisogno di un tempo sconfinato, perché è un librone e quindi diciamo, soprattutto noi ne leggiamo degli stralci e quindi la lettura a voce alta prende molto tempo. Con questa divisione riusciamo a fare un po' di più, a fare una parte cospicua del libro e comunque la divisione è veramente molto virtuale, perché poi Dostoievski ci fa capire che il delitto ha già con sé parte della pena e che ogni giorno quando peniamo, in quella pena c'è un pezzo anche di una possibile delittuosità da parte di chi quelle pene le subisce. E quindi abbiamo un po' rimontato il libro, lo abbiamo sfrondato, rimontato, ci siamo entrati dentro, cercando però di mettere in scena due serate indipendenti. Che quindi possono essere anche fruite diciamo entrambe. Assolutamente, perché penso che questo in qualche modo possa far piacere a Dostoievski stesso, perché insomma una ripartizione, cioè dividere poi il libro in delitto e pena significa che il delitto si consuma nelle primissime pagine del romanzo, in realtà la parte cospicua del romanzo è tutto ciò che ha a che fare con la pena. A me sembra comunque molto divertente anche come spettatore l'idea di vedere uno spettacolo in due puntate, come dire, in due puntate che in qualche modo si completano l'una con l'altra. Probabilmente sei arrivato a questo romanzo perché è un romanzo che ami e che conosci bene, ma la lettura condivisa con un'altra persona, in questo caso per Giorgio Bellocchio, che tipo di cambiamenti ti ha dato nella lettura di Delitto e Castigo? Perché poi credo che appunto la lettura in genere sia un'esperienza solitaria, si confronta soltanto con l'autore e con la pagina. Leggere e decidere di intervenire su un testo così in condivisione con un'altra persona com'è? Beh, io in primo luogo diciamo Pier Giorgio Bellocchio era Skolnikov, quindi Pier Giorgio è il protagonista. Io nella maggior parte dei casi sono il narratore, nonché gli altri personaggi del romanzo, perlomeno quelli fondamentali. È stato un momento molto importante, diciamo, ci abbiamo lavorato tantissimo, l'abbiamo fatto assolutamente in amicizia per l'affetto. Non vi siete litigati i ruoli. Non ci siamo né litigati e lo facciamo per il teatro, per uno spazio di appena 70-80 posti, però secondo me quello spazio mantiene quella caratteristica dell'evento che delle volte il teatro perde, perché il teatro ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, sembra sfornare prodotti e quando a teatro si va per un prodotto, allora uno probabilmente può anche vedere la TV, si vede un DVD, il teatro deve mantenere quella caratteristica dell'evento, dell'evento eccezionale, quasi irripetibile. Ecco, a Largo non ci vai perché ci capiti, ci vai perché fai una scelta e quindi, diciamo, questa lettura condivisa con 70-80 persone a sera che poi vengono a vedere delitto e poi invece vogliono ritornare a vedere castigo e quindi, diciamo... Magari si sbagliano e rivedono un'altra volta dell'evento. Rivedono anche un'altra volta, può capitare. Insomma, il nostro vero poi piacere è che, come dire, c'è della gente che non ha letto il libro, che se lo va a leggere, c'è della gente che lo riscopre, ci sono dei ragazzi che ne rimangono assolutamente affascinati e poi soprattutto è un libro attuale perché Dostoevsky, diciamo, era meno storico di Tolstoi. L'indagine di Dostoevsky è un'indagine dell'animo umano e l'animo umano, diciamo, non ha tempo. Certamente. Da punto di vista scenico, come è portato lo spettacolo? Io ho coinvolto un artista che si chiama Gregorio Botta, che fa delle installazioni, che fa... non è esattamente uno scenografo, ma ha lavorato per la nostra scena creando un ambiente davvero molto particolare che mette in luce, come dire, i conflitti, le contraddizioni e soprattutto i fantasmi che vivono nella mente del protagonista e soprattutto la nostra lettura non è una lettura fredda. Abbiamo fatto un lavoro molto con i suoni e quindi la nostra idea è di fare un qualcosa. Poi ci sono anche delle scene che gli attori interpretano a memoria, quindi è un po' lettura, un po' radio, un po' cinema, un po' racconto, un po' teatro dal vivo. Diciamo, per un'ora e venti lo spettatore assiste a qualcosa di molto articolato e penso anche molto originale. Tra l'altro ci sono anche le foto di Marco De Logo in... Beh, perché anche Marco appartiene ai fondatori del teatro Argo, io l'ho conosciuto proprio al tempo e quindi abbiamo cercato di riunire un gruppo di persone che sono state accanto a quel teatro e che hanno forse anche contribuito a far sì che quel teatro sia riuscito negli anni a sopravvivere. Diventerà un film anche questo spettacolismo? Io guarda, ho sempre pensato una cosa, per chi conosce bene Roma, che un delitto e castigo al pigneto si potrebbe fare assolutamente. Il pigneto è pieno di studenti, ex studenti, di gente che arriva fuori Roma, di gente che in qualche modo, come dire, deve affrontare le durezze della vita. Insomma, il dramma di Raskolnikov è un dramma assolutamente contemporaneo. Allora, una sera delitto, una sera castigo è fino al 14 dicembre al Teatro Argo. Come abbiamo detto, troverete sul palco Pier Giorgio Bellocchio e Sergio Rubini che da quanto ci ha raccontato questo spettacolo l'ha fortemente voluto, fortemente amato. Penso che sia anche uno spettacolo molto molto coinvolgente, perché già quella letteratura lo è, perché è entrisa anche di gotico, di elementi noir, horror, perché là dentro lui aveva già, come dire, ci sono tante scene, quando affronti delitto e castigo capisci che Hitchcock ha preso tantissimo anche da Dostoievski. Quindi, diciamo, è una lettura che non è lettura, è un momento di teatro a mio parere molto coinvolgente ed emozionante. E poi, se andate a ripescare il libro di Dostoievski, non è che fa male, no? Cioè, una riscoperta non male. Grazie ancora Sergio Rubini. Grazie. Grazie a voi.